Ciao, se hai già partecipato alle passate edizioni di Frontiers, sai perché venire anche quest'anno. In caso contrario, ecco alcuni buoni motivi per farlo. Non solo parola Frontiers, ma un'esperienza ricca di idee e contenuti che lasciano il segno. 5 workshop per imparare, lavorare insieme e conoscersi meglio, e 4 tracce di conferenza intorno ai temi della tecnologia, del design e del business. Più di 25 fra speaker e ospiti internazionali, mille occasioni per te e la tua azienda, non semplicemente di restare aggiornati, ma anche di scorgere visioni del futuro. La conferenza accoglie fra speaker e ospiti, persone che fanno il tuo stesso lavoro, con quali condividi numerosi interessi o che si occupano di argomenti affini ai tuoi. E quindi un'ottima occasione per vedere cosa fanno gli altri, come lo fanno, imparare, condividere esperienze e metterle poi in pratica nel proprio ambito professionale e non solo. Fai sapere chi sei, cosa stai facendo e cosa farai. È il vero valore della partecipazione ad una conferenza come Frontiers of Interaction. Ci sono tantissime persone con le quali hai molto in comune, ci sono tantissime persone desiderose di conoscere nuove idee e di scoprire nuovi orizzonti. Tante occasioni di networking, il workshop, i coffee break, i pranzi, il networking aperitivo del 7 giugno, ma anche l'8 durante il talk. Sportate con voi i vostri biglietti da visita, ma non soltanto quelli. Offrite un caffè a chi vi sta accanto, chiedete agli start-up per di parlarvi dei loro progetti. Ne usciremo tutti sicuramente più ricchi. Se tu e la tua azienda avete le posizioni di lavoro aperte, spesso la conferenza è un ottimo luogo per incontrare le persone giuste che fanno al caso vostro. Un esempio per tutti, quello di Maria Paz, l'anno scorso attendì a Frontiers 2011 e quest'anno designer appresi. Spesso una pausa, un pranzo, insomma, possono trasformarsi in un'ottima occasione per un primo colloquio informato. E se sei tu a cercare le nuove opportunità, potresti trovarle proprio a Frontiers. Tanti motivi per partecipare a Frontiers, tanti anche i modi per raggiungerci. Se vi trovate già a Roma, la metropolitana è caldamente consigliata. La fermata della metro di Cinecittà si trova proprio davanti all'ingresso della nostra venue di quest'anno. Se venite da fuori Roma in auto, vi consiglio di condividere l'automobile con carpooling, una scelta ecologista e anche molto, molto, molto comoda. E per chi viene da un po' più distante e decide di prendere il treno all'alta velocità di Trenitalia, ci sono condizioni agevolatissime. Andate sul nostro sito per trovare il numero di telefono e l'email, cui inoltrare la vostra richiesta di sconto. Vi ricordo che da alcuni giorni sono disponibili anche i ticket per il solo giorno della conferenza, ma siete sicuri di volervi perdere anche i workshop? Ci penserei me. Se siete un gruppo di amici, approfittate dell'occasione dei sconto social. 20% per il primo registrato e 10% per i successivi. Regatevi subito sul sito www.frontiersavinteraction.com per scoprire tutti i dettagli. Ci vediamo a Roma. Grazie a tutti. Grazie a tutti.